Musica Ciao a tutti ragazzi Oggi siamo qui su minecraft Io sono Franciquanta E oggi siamo qui Su il mio secondo video Di minecraft Riprenderò a farlo Allora qua Questa qua intanto è la mia casetta survival Che non ci ha ancora scoperto nessuno Doviamo chiudere sto buco Qua c'è la mia roba segreta guardate Vedete Qua c'è la mia roba segreta E Allora qua Ci sono Si chiama imperialcraft Secondo me è il mio server preferito Vi Vi chiedo di scrivere nei commenti Chi è che vuole giocare con me Magari non lo so ci mettiamo d'accordo Non so come E giochiamo insieme ogni tanto Quindi adesso facciamo spawn E andiamo nella Nella home principale di sto gioco Allora infatti Arriviamo Quando carica Arriviamo Sta molto bene Aspetta eh Si carica un pochino Tranquillo non è il pc che è lento Ma probabilmente è il server Che sta andando un po' male Si sta bugando un po' Ok allora le warp Sono qua Poi ci sono sti Sti diamanti Che ti fanno Volare Che ogni tanto mi incazzo Perché non ti fanno Andare dritti Ehm Adesso Merda Eccolo il cazzo Che mi fa Venire Quindi adesso Lì evitiamo Perché ogni tanto Vanno dove gli pare Allora Però è comunque un server carino Ehm Come vedete Ci sono tante fazioni C'è il pvp Nascondino Che penso che non ci sia nessuno Ehm Disco t Cassera per friend Sfilata Amore Che è una chat Cioè Un mondo abbastanza brutto Città Nether E qua non ci entro più Poi qua c'è Minigame Ehm Normali E speciali Adesso io scriverò Qua dove sono Dove si trovano tutti Finché warp siete Ok No Rega Non mi rispondono Quindi Io direi di Di vedere Chi c'è Intanto qua Non c'è nessuno Ma manco Per niente Quindi rega Allora Direi di andare Sul nascondino E vedere Che figo Che è Sta cosa Vedete Qua si può fare Tanta roba Cioè Ci sono tanti nascondini Tipo qua Diet Qua dentro Cioè Si può salire Sopra E' molto figo Qua vadete Guardate Appunto Facciamo match Vediamo Se c'è Qua infatti Non c'è Qua non ce l'hanno Eccolo qua C'è il gamer Pro Ita Vediamo Lui dove va Io aspetto Qualcuno Per vedere Dove vanno A finire Qui E' che io Non c'ho ancora Capito niente Minecraft ci gioca Da poco E non è che Sono proprio Un bomber A fare Ste robe Cosa fai Volevi Sa dire Guardalo Come voleva E gli regalo Pure le cose Boom Addosso RKO Che ti iniziare Lascerai perdere Ma Ma Perché Perdo sempre Di vista Le warp Ma Vuole giocare Sta qua O cosa Cosa fa Cazzeggia Ah si è Dai no Corriamo Finchè C'è C'è Un po' Di cosciotti E Riteniamo Il survival Dove Dobbiamo Continuare La nostra casa Che L'abbiamo Costruita Io E Un mio amico Astral Pro Segreta Che non C'hanno ancora Scoperto Nessuno Non C'hanno rubato Niente Beh Non è che io Abbia tanta Roba Però Ci si accontenta Sempre Quindi Adesso Corriamo E Andiamo Alla porta All'ingresso Principale Raga Dove Ho bisogno Di costruire E di Andare a fare I soldi Perché Per vedere Come si fanno I soldi Basta che fai Slash E Scrivi Ball Infatti C'ho Zero E Per fare Più soldi Per guadagnare Infatti Bisogna fare Job Join Jo In Miner Che tu andrai a fare Il minatore Tipo E Scavando Sempre di più Guadagnerai Delle cose Io qua Non c'è niente Qua Ci sono Dei picconi Ne prendiamo Uno Prendiamo Delle torce E poi Lasciamo stare Tutto il resto E Come al solito Andiamo a chiudere Anche questo buco Come ben saprete Questo qua È un Server Molto carino Ed è fatto Anche abbastanza bene Quindi Noi Speriamo di trovare Il ferro Che non ce l'abbiamo ancora Se lo Trovo Il mio amico Sarà felice Sarà felice Già Anche di essere In questo video Anche se non sono famoso E Infatti Adesso Andiamo Alla ricerca Di qualcosa Sfasciato il piccone Non abbiamo trovato niente Ma ci sta Abbiamo scavato poco Qua dobbiamo assolutamente Crearci delle scale Perché se no A me tutte le volte Fare questa cosa qua È una pazzia E adesso che siamo Un po' più avanzati Possiamo crearci Il piccone Di pietra Che penso che sia Anche più efficace Raccogliamo tutto Cosa è successo Perché non Me lo da Bene ragazzi Non ci crea il piccone Sembra una cosa assurda Ma non ci crea il piccone Cioè È irrealistico Perché io voglio che Vedete Rimane sempre 30 lì E vabbè Questa qua è un bug Allora Si sta bugandissimo Il gioco No 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 È strana sta cosa Facciamo Io voglio creare una palla Facciamo E si Sti cazzi Si vabbè Dai Andiamo lì Creiamo questa La mettiamo là E Non c'è ragazzi Quindi mi sembra Una cosa Stranissima Sembra un bug Tipo del gioco Del server E Vabbè Però adesso Ci accontentiamo Di questo qua Però No Perché no Ci serve Quell'altro Ma non funziona Manco Per il pisellino Regà Magari adesso Funziona Potrebbe Mi butta via La roba Ok ragazzi Vai Non lo so Spero che comunque Questo video Vi sia piaciuto Se volete Un altro video Di minecraft Dove Faccio sempre Questo server Risolverò Tranquilli Sta cosa qua E Lasciate un like E Noi Ci rivediamo Nel prossimo video Bella ragazzi Grazie 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 a tutti.